La versione di Oscar E poi, seconda questione, il Presidente Allabi che dice al governo che non ce lo facciamo più da soli a finanziarci i prepensionamenti e la gestione degli esuberi del personale bancario e lo Stato ci deve aiutare. Quindi finisce l'autonomia, per così dire, finanziaria con cui le banche si risolvevano il problema. Allora, Stileoni, il segretario della Fabi, lei innanzitutto capisce che per un sindacato non è il problema fondamentale, ma lei che dice delle banche che aumentano i costi di gestione per rivalersi delle quote del fondo di risoluzione bancaria? Guardi, faccio due considerazioni. La prima è che non sono tutte le banche, ma sono certo che per esempio in Tesa San Paolo, Montepaschi e BPM ancora non hanno fatto questo aumento. Il secondo è un aspetto politico, dal mio punto di vista, estremamente importante. Non deve passare il concetto, lei ha spiegato tutto molto bene, ma non deve passare il concetto, e bisogna essere chiari con chi ci ascolta, non deve passare il concetto che vengono aumentati i costi rispetto al conto corrente per poter poi finanziare gli eventuali esuberi. No, no, questa ha ragione. Il secondo aspetto, Patuelli, lei non ci crederà, forse è una delle poche volte che dà ragione a Patuelli, ma Patuelli ha completamente ragione. Tra l'altro lo stesso Presidente della Fabi ha fatto nostra una proposta che abbiamo fatto noi, quindi fine agosto, che è stata ripresa un po' da tutti. La dico in maniera molto semplice. Allora, da oltre vent'anni le banche versano 200 milioni di euro all'anno per finanziare l'indenità di disoccupazione di altre categorie. E non hanno mai utilizzato, non hanno mai avuti nessun tipo di ritorno da questo finanziamento. Allora, io le faccio una domanda. E a questo aggiungiamo, e a questo aggiungevano il finanziamento degli strumenti necessari per gestire invece i propri problemi nel mondo bancario. Esatto, quindi c'era un duplice sforzo a livello finanziario. L'altro aspetto fondamentale, il decreto, il governo fa un decreto legge a maggio e fa passare il nostro ammortizzatore sociale, il Fondo Esuberi, che ci ha permesso di gestire attraverso prevenzionamenti volontari negli ultimi anni oltre 40 mila prevenzionamenti volontari, passa la durata del fondo da 5 a 7 anni. Allora, il ragionamento che noi come sindacato e l'ABI facciamo è il seguente. Siccome per 20 anni le banche hanno finanziato l'indenità di disoccupazione di altre categorie e aggiungo io hanno fatto bene, lasciateci a noi del settore per 3 anni questi 200 milioni che sarebbero 600 milioni di euro, che vanno a confluire nel nostro ammortizzatore sociale che è il Fondo Esuberi per poter gestirci in piena tranquillità tutte le prossime fusioni e tutte le eventuali aggregazioni che nasceranno da oggi in poi. Visto che tutti dicono che il cambio del modello di gestione e l'abbassamento dei costi income, cioè dei costi fissi, è una sfida che vale per l'economia di tutto il paese. Ma il governo cosa ha risposto? Il governo per adesso ha risposto picca, perché in un convegno tra l'altro di qualche giorno fa della Fisag CGL e delle CGL bancarie sono intervenuti due parlamentari, due sottosegretari, uno è stato l'On. Barretta, che ha dato una disponibilità di massima, l'On. Barretta, la teleca per le banche, ha dato una disponibilità di massima per quanto riguarda eventuali finanziamenti di quella che noi chiamiamo la solidarietà difensiva, e cioè, come dire, dà un contributo, ma non dà il contributo necessario che ci permette di gestire la crisi del settore. Mentre altri personaggi autorevoli dello stesso governo hanno detto, no, questi soldi a noi servono perché dobbiamo finanziare, continuare a finanziare l'indennità di disoccupazione di altre categorie, quindi non possiamo per tre anni, ma neanche per un anno, come dire, sospendere, permettere alle parte... Questi 200 milioni che dal sistema vanno. Allora, io la ringrazio perché ha chiarito, innanzitutto, ma credo che i dipendenti lo sapessero bancari, però ha chiarito a tutti qual è la questione. Se noi chiediamo un grande efficientamento del modello bancario, tecniche di gestione, tecnologie, eccetera, eccetera, e con le fusioni si creano esuberi, bisogna che in qualche modo ci sia una soluzione per il problema. Lei l'ha chiarito benissimo. Vediamo un po' di nostri ascoltatori in che condizioni si trovano per le segnalazioni che ricevono dalle loro banche. Federico, da Roma, Federico, prego. Si, buonasera.